Continua la mission del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per dire no al consumo di plastica. Sarà firmato infatti un protocollo d'intesa tra l'ente parco, la CONSAC Gestioni Idriche S.P.A. e gli 80 comuni del parco, che prevede una collaborazione per promuovere azioni volte alla tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, mediante attività di sensibilizzazione e di informazione presso gli istituti scolastici del territorio e proseguire nella realizzazione delle attività già avviate con il progetto Acquasi ma Plastic Free. L'intenzione del lente cilentano mette in atto obiettivi concreti e attuabili per limitare l'utilizzo della plastica monouso e per alimentare sempre di più il modello di economia che preveda la gestione dei rifiuti plastici in un'ottica di riduzione, riuso e riciclo. L'obiettivo del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è in particolare quello di installare erogatori di acqua potabile presso le scuole dei comuni che aderiscono al protocollo d'intesa. La spesa a carico del lente sarà di 100.000 euro, mentre la CONSAC si occuperà gratuitamente dell'installazione e manutenzione degli erogatori. I comuni dovranno invece corrispondere ai singoli pressi scolastici una somma di 500 euro. Prosegue dunque la campagna di sensibilizzazione già avviata dal lente cilentano, che nel 2018-2019 ha visto la distribuzione di 13.000 borracce di alluminio nelle scuole dell'infanzia e primarie del territorio per dichiarare guerra alla plastica.